Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo su una nuova creepypasta, Smile Dog. Aspetta, prima di farvi vedere le immagini vi dirò un po' la storia. Ce ne sono due, una un po' meno spaventosa, l'altra un po' di più. Vi racconterò prima la meno spaventosa. Praticamente c'era una ragazzina che aveva visto questa foto e si è depressa e si è abbandonata a se stessa. Boh, tutto qua. La seconda, un po' più lunga e anche un pochino più inquietante, è che c'è una catena di Smile Dog che praticamente se uno manda una foto di Smile Dog all'altro, lui deve per forza mandarlo a un'altra persona. Se non lo farà, vedrà Smile Dog dappertutto. Poi si ucciderà buttandosi giù da un poggiolo per la depressione con un sorriso stampato in faccia. Questa è un po' la storia. Ora vediamo le immagini veramente inquietanti, ma tengo a precisare una cosa, tra queste immagini non c'è l'originale. Altrimenti ci manderebbe in depressione e quindi... E ci butteremo. Ci butteremo. Ah, è chiamato anche Smile GP. Perché? Così, non lo so. Oh, madonna. Eh, questi qua sono solamente video. Guardiamo un po' le immagini. Non sapevo... Il più inquietante è questo. Sì, non abbiamo visto quel giorno sulla creepypasta. Questo sembra un veone. No, quello lì sembra un mutante mezzo... Questo non c'entra un cazzo, manco questo. È Photoshop quello, di sicuro. Cioè, secondo voi è vera. Quale? Sì, è vera, ma non sta sorridendo. Beh. Madonna, c'è la creepypasta, Smile Dog creepypasta. Vabbè. Questo fa un po' inquietudine e un po' di più ridere. E questo fa ridere, boh. Ma che cazzo dici creepypasta? C'è solo... C'è solo... Oh, ma io voglio vedere i video. Cioè, non sapevo neanche che c'erano. No, Bellino. Adesso ti mettono tutto a coprire. Ah! Fa... Fa... Raccontare creepypasta. No, 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 no. Non posso. Cioè, non... In teoria non è legale. Perché? Vedere altri video di altri youtuber è legale. su YouTube. Eh sì, dovrebbe essere legale. Ti mettono solamente la copyright. La copyright dove non paghi. Cioè, se... Non puoi monetizzare i video. Quindi non puoi prendere i soldi dai video. Oh. Ma... No, non fa ridere. Non fa ridere. Sembra un cane indemoniato. Non fa ridere. A me sì. Smile dog è... Horror. Scrive horror. Smile dog horror. No, è già... È già horror, madonna. È già horror. No, no. Perché ti escono quei canini con le faccine... Canine puzziose. Scherzo. Eh. Beh, se... Questo sembra biancaneve, porca troia. Biancaneve indemoniata con le orecchie da elfo. Questo qua? Ah, questo qua ha anche la mano. La mano fa parte della foto originale. Questo qua? Vabbè, una mano. Sì, però... È già un dettaglio in più, eh. È già un dettaglio in più. Ma tu l'hai mai vista la foto originale? Ma no, no. Inoltre lui sarebbe già morto, depresso. No, in teoria... Allora come fai a sapere che la mano c'era? È perché si racconta, eh, nelle creepypasta. Appunto. Minchia, questa qua quanto è inquietante? E se fosse falsa? Quale? No, scusa. Quale? Questa. Ma questo sembra Jeff the Kill... Eh, Jeff the Killer! Killer Gif. Ah, porca miseria! Mi sono quasi preso di fatto! Mi sembrava che è riuscito dal telefono! Ma che male, mio mio! Che cazzo c'entra con Smile Dog? Spiegamelo tu! Ah no? È riuscito in quel momento! Ma comunque Smile Dog l'abbiamo visto anche in Suicide Mouse! Sì, è vero! Sì! Quel giorno... Mi spieghi che cazzo c'entra! Ma no, se non ricerche con il relato perché è horror! Smile! Aspetta, dammi un attimo... Madonna, sta qua... Cioè, non fa paura, ma minchia! Chi è sto cane così lungo da avere una bocca? Esce fuori dal corpo sta bocca! E lui vola! Vola, vola, vola! La lappe maia! La bocca è inquietante! Sta roba cos'è... È satana, Berlino! Non è manco Smile Dog! È Smile Satana! Oh, madonna! Sto qua... Cioè, sto qua... Dai, Berlino! Che cazzo carichi! Comunque sto qua... Non lo vedete? Ho paura! Sembra Momo! No, Momo fa molta paura! Ma... Io non cerco... Aspetta, vai un attimo sotto quello lì che sembrava... Ehm... Come si chiama? Vabbè, cerca un attimo Momo! Oh, minchia! Oh, minchia! Mi cago sotto! Mi cago sotto! Oh, aiuto! Beh, però ci assomiglia! A quel smile dog? Eh! A quel smile dog che abbiamo visto prima! No! Era questo! Dai, laviamoci su! Dai, che siamo belli sposi! Oh, madonna! Siamo galline, poi! No! Cosa ho visto? Vola, vola, vola! Cosa ho visto? Le maschere! Ma sono le maschere! Sì, ma minchia! Inquiettano un po' Cioè, guarda quando si esce Momo davanti! Guarda! Eh, aspetta! Però è più inquietante il smile dog! Vai un attimo da quel smile dog che sembrava Jeff the Killer! Vediamo un attimo! Eh, Jeff the Killer! Aspetta, vai da Jeff the Killer! Aspetta! Vedi! Madonna! Vedi che... Che è un umano... No, no! I think... Questo canso tanto! Vai su, vai su! Ma non ci assomiglia un cazzo! Cioè, sembra una vecchia... Sembra Granny! No! Questa è... Questa è Granny! Forca droga! Ah no, è Jeff the Killer! Ah, il videogioco! No, non c'è il videogioco! Sì, sì! Sì, c'è il videogioco! Che bella maschera! Fai cagare sotto la gente! Oh, non ci credo, fra! Di solito quando digito Smile Dog si cancella automaticamente e non si è cancellato! Comunque elimino! Se ho clicca la mia mano... Ma cosa vuole, mio figlio? Perché abbiamo lo stesso account? Cancella anche Samy 300! Perché? Dio, me stesso! Che cazzo c'entra a casa di Minecraft? Ma vaffanculo! Casa di Minecraft 37! Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ok dizionario